Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura torniamo a parlare dell'incidente nel quale perse la vita nel gennaio 2022 una 51enne. La procura di Arezzo ha chiesto l'archiviazione per la morte dell'uomo che finì dentro un frantoio per inerti in funzione. Gli esiti dell'autopsia hanno chiarito che l'uomo non aveva assunto né alcolici né sostanze stupefacenti e non mostrava segni di violenza causata da terzi. La morte sarebbe quindi stata causata da lesioni che potrebbero essere causate proprio dalla macchinario. A seguito dell'incidente la procura aveva aperto una fascicolo per omicidio colposo, adesso la richiesta di archiviazione. Ci spostiamo in Val di Chiana dove si è consumato un furto davvero singolare. È stata infatti rubata l'auto alla sacerdote che si trovava in un'abitazione per il giro di benedizioni pasquali. È successo alcuni giorni fa a Pozzo della Chiana. Alla termine della celebrazione infatti il prete non ha più trovato l'auto che stava usando, una Fiat Panda Verde, parcheggiata fuori dalla casa. Il sacerdote aveva lasciato le chiavi sul cruscotto convinto che un mezzo così vetusto non sarebbe finito nelle mire dei malviventi. Ma così non è stato e adesso sul caso stanno indagando i carabinieri. Un arettino di 31 anni invece è stato arrestato per atti persecutori a Pisa. È stato fermato ieri sera attorno alle 23.20 dalle pattuglie della squadra volanti che erano state chiamate da una donna che chiedeva aiuto perché il suo ex ha già denunciato si era presentato sotto casa. Gli agenti lo hanno bloccato e arrestato in flagranza di reato. Il PM ha disposto il trasporto in carcere in attesa della convalida dell'arresto e del processo. Voltiamo pagina e torniamo adesso a parlare della capotreno aggredita qualche giorno fa sul treno regionale che da Firenze porta ad Arezzo all'altezza di Pontassiebe. Sulla vicenda adesso intervengono i sindacati. Questi fenomeni purtroppo sono tornati, è grave dirlo, quasi all'ordine del giorno e della quotidianità di un lavoratore. Sapere che io come lavoratore esco di casa e quando non so se rientrerò perché dovrò finire la mia prestazione lavorativa ad un pronto soccorso, ad un ospedale, sinceramente nel 2023 è una cosa che come lavoratori non possiamo più tollerare. Dopo le due ore di sciopero in Toscana, proclamate da CGL Cisle Will Trasporti, oggi è anche UGL a prendere posizione sulla capotreno aggredita in un convoglio all'altezza di Pontassiebe da una 43enne residente nell'Aretino. Si tratta di un lavoratore che tutti i giorni la mattina esce di casa per cercare di fare quello che gli è chiesto di fare e non è giusto che succeda questo. Non è giusto perché noi come organizzazione sindacale stiamo denunciando questa cosa da diversi anni. Più volte siamo stati nelle varie prefetture, più volte abbiamo chiesto allo stesso governo, allo Stato, alla regione toscana, abbiamo chiesto alla nostra azienda stessa di prestare più attenzione ad un problema che si sta ingrandendo sempre di più e che prima o poi se nessuno continua a metterci gli occhi come sta facendo adesso prima o poi potrebbe portare a delle tragedie ben più gravi e noi non vogliamo che aspettare come succede spesso in Italia che avvenga qualcosa di irreparabile prima che qualcuno accende i riflettori su questo tema. La categoria, se si può definire esposta per natura professionale, è inevitabile ma l'escalation purtroppo è agli ordini del giorno e nonostante ciò noi abbiamo già fatto altri tipi di manifestazioni sindacali, scioperi, presidi sotto la prefettura negli anni scorsi. Noi pensiamo solamente che i presidi di polfer debbano essere incrementati sia negli orari di presenziamento ma anche nelle stazioni stesse. una sempre più maggiore incisività su quelle che possono essere le istituzioni dal prefetto stesso coinvolgendo sindacati, lavoratori e azienda. Questo deve essere alla base. Bisogna iniziare a poter parlare insieme a istituzioni, prefetto e azienda. Si è riunito in prefettura l'osservatorio per il monitoraggio degli incidenti stradali che ha affrontato in particolare il tema della sicurezza sulla 71 arterie assegnata purtroppo da continui incidenti anche mortali. Potenziamento dei controlli stradali da una parte e lavoro di prevenzione con le giovani generazioni dall'altra. Questo è il risultato della riunione che si è tenuta in prefettura dell'osservatorio per il monitoraggio degli incidenti stradali che ha affrontato la tematica della sicurezza della strada regionale 71, l'arteria, spesso teatro di tragedie della strada, alcune mortali e altre con gravissime conseguenze. Oltre ai membri dell'osservatorio erano presenti anche il presidente della provincia di Arezzo e i sindaci dei comuni interessati dall'attraversamento della strada regionale. Tutti d'accordo sulla pericolosità soprattutto di alcuni tratti. Si è quindi deciso di proseguire nell'attività di prevenzione e di educazione stradale già in atto con il diretto coinvolgimento degli studenti e di prevedere un potenziamento dei controlli stradali da parte delle forze di polizia. Il giusto equilibrio, scrive la prefettura in un comunicato stampa, fra le attività di controllo e repressione dei comportamenti pericolosi costituiscono la strada migliore per perseguire l'obiettivo della progressiva diminuzione dell'incidentalità stradale. Un vero e proprio boom di firme, quelle raccolte dal Comitato Emergenza Lupo Arezzo per la petizione rivolta ai ministri. Quasi 3.700 firme per chiedere un incontro ai ministri competenti. Il Comitato Emergenza Lupo di Arezzo ha terminato la raccolta delle firme per la petizione rivolta a Francesco Lollo Brigida, ministro dell'Agricoltura, e Gilberto Fratin, ministro dell'Ambiente. Per la precisione sono 3.691 i residenti dell'Aretino che l'hanno sottoscritta. Dalla promulgazione delle norme che hanno istituito la difesa dei lupi inserendoli tra le specie particolarmente protette, scrive il Comitato, sono stati lasciati procreare indiscriminatamente fino a raggiungere gli oltre 3.500 esemplari, cifra che secondo il Comitato è sottostimata. Popolazione che secondo i firmatari della petizione non è stata gestita al meglio. Nella provincia di Arezzo, prosegue il Comitato, siamo passati negli ultimi anni dai frequenti avvistamenti ad una continua predazione nei confronti degli animali, non solo più quelli selvatici ma anche quelli domestici e da reddito. I lupi, sempre più confidenti e spinti dalla fame, stazionano intorno alle abitazioni anche nei centri abitati a qualsiasi ora del giorno e della notte. La nota si chiude sottolineando che la petizione ha avuto l'appoggio anche di Enalcaccia, unica associazione venatoria, sottolinea il Comitato che ci ha dato supporto. Cambiamo argomento adesso, una tecnica innovativa che attraverso un semplice prelievo di sangue in modo rapido e sicuro permette di effettuare il follow-up nei pazienti operati di tumore o sottoposti a terapia. Si chiama biopsia liquida e in Asla Toscana Sud-Est è partita in via sperimentale oltre due anni fa negli ospedali di Arezzo e Grosseto. Una tecnica innovativa che consente attraverso il prelievo ematico di cercare elementi molecolari che indicano l'eventuale persistenza del tumore spiega il dottor Agostino Ogni Bene, direttore del Dipartimento Medicina di Laboratorio e Trasfusionale. È un protocollo che va avanti da oltre due anni e che applichiamo nei casi di tumore alla mammella, polmoni intestino, vie urinarie, melanoma, carcinoma gastrico, tumore epatico e alle vie biliari. La strumentazione necessaria è stata acquistata con fondi calcite e fondi aziendali. E adesso ci spostiamo in Valdarno, da dove è partito un camion di generi alimentari alla volta dell'Ucraina. Un camion carico di generi alimentari dal Valdarno alla volta dell'Ucraina. Si tratta di un'iniziativa di solidarietà della misericordia di San Giovanni Valdarno e di Cavriglia, una raccolta che si è concretizzata anche grazie alle donazioni di privati e di un'azienda dolciaria del territorio. Ancora una volta il grande cuore dei valdarnesi e anche dei volontari della misericordia di Cavriglia ha fatto sì che si potesse raccogliere un certo quantitativo di materiale, farmaci, vestiario e anche derrate alimentari non deperibili. Il tir è già partito alla volta dell'Ucraina. La prima tappa sarà in Polonia e poi andranno in Ucraina a Leopoli, a Kiev e poi sempre all'ospedale pediatrico di Leopoli per i malati di fibrosi cistica. Una parte in Polonia andrà all'hotel Partners di Lovic dove stanno i bambini con le loro mamme profughi dall'Ucraina. La misericordia si è già attivata anche per una nuova missione umanitaria a favore delle popolazioni turche e siriane colpite dal sisma diventando così sempre più punto di riferimento per i cittadini. Ormai siamo un punto di riferimento e ci cercano per poter donare, noi cerchiamo dove poter mandare questa roba. A Castiglionfibocchi invece grazie a fondi ministeriali arriva un progetto cinematografico per gli alunni delle scuole primarie che realizzeranno un cortometraggio. Crediamo molto appunto nel linguaggio audiovisivo, nella conoscenza del linguaggio audiovisivo, nello sviluppo delle competenze che i bambini possono acquisire attraverso questo linguaggio. Per noi è un obiettivo prioritario molto importante anche per la socializzazione e per la formazione del gruppo che si crea attraverso queste esperienze. Un progetto cinematografico per gli alunni delle scuole primarie grazie ad un investimento di 40.000 euro. L'istituto comprensivo Giorgio Vasari di Arezzo, di cui fa parte l'interoplesso scolastico di Castiglionfibocchi, si è visto assegnatario delle risorse relative al bando indetto dal Ministero della Cultura e da quello dell'istruzione e del merito con il progetto Cinema Scuola Lab Infanzia e Primaria, arrivando sesto a livello nazionale. Le risorse saranno adesso investite nel plesso Ugo Nofri di Castiglionfibocchi. Proprio per valorizzare, per potenziare quelle che sono le piccole realtà locali. Già lo scorso anno avevamo vinto un bando simile e la scuola prescelta era stata la scuola della chiasa. Speriamo, ci aspuchiamo, di poter continuare in questo percorso per poter valorizzare tutte le realtà, le piccole realtà e poi ovviamente tutti i nostri plessi. Questo sarebbe un obiettivo importante per noi. Protagonisti del progetto, i bambini della classe quarta primaria. Saranno loro i protagonisti in un borgo, in una realtà che è il nostro Castiglionfibocchi, quindi una grande promozione anche del territorio. La regia, il montaggio e la produzione sarà assegnata alla Poti Picture. Faremo nello specifico un cortometraggio, anche due in realtà. Uno l'abbiamo già fatto con questa quarta elementare, in un percorso che è stato veramente un percorso importante di alfabetizzazione non solo iconica, ma anche alfabetizzazione emotiva. Quella costruzione poi su questi bambini di una storia molto bella e avvincente che vedrà la luce in termini di set nel mese di maggio. Dopo il seggiolino Salva Bebé e Ferdinando, il robot anti-Covid, arriva un'altra creazione da parte degli studenti dell'Isis Fermi di Bibbiena che adesso si sono occupati di parcheggi per disabili. Stai occupando un'area di parcheggio riservata ai disabili. Attenzione! Un'allarme contro i furbetti dei parcheggi è questa l'ultima invenzione tecnologica degli studenti dell'Istituto Fermi di Bibbiena. Nasce come al solito per risolvere un problema, o provare a risolvere un problema di utilità sociale, che è quello del parcheggio dei disabili, che spesso vengono occupati da persone non autorizzate, creando non pochi problemi alle persone con disabilità. Stai occupando un'area di parcheggio riservata ai disabili. Il discosore si attiva seguendo varie fasi con tempi programmabili. All'interno tutte queste sequenze vengono abilitate dal PLC, che se la macchina non è abilitata attiva la sequenza di tre volte, ripete la voce, che sta occupando un posto per disabili. Dopodiché inizia a suonare una sirena che invita al conducente di lasciare libero il parcheggio. Più c'è un sistema per la visualizzazione se i posti sono liberi o no. Questo c'è un'app che permette di verificare se un parcheggio è libero oppure no. Alla realizzazione hanno partecipato anche gli alunni dell'Istituto Comprensivo 13 Aprile di Soci. Abbiamo programmato degli Arduino dove avevamo dei sensori di umidità e di calore. Dal seggiolino salva bimbi e a robot per i medicinali, agli anziani e all'umanoide per rispettare le regole anti-Covid fino all'ultima creazione, il dissuasore, tutti frutti dello studio tra digitale e tecnologia, guardando come sempre anche al sociale. Secondo me potrebbe veramente aiutare a sensibilizzare le persone rispetto a una delle tante tematiche di inclusione che non sempre vengono prese in considerazione. Il progetto parteciperà alle selezioni dei campionati di robotica. L'anno scorso abbiamo partecipato col progetto precedente, siamo arrivati quinti su 120 squadri. Quest'anno stiamo inviando i video a Genova per la nuova edizione. Se tutto va bene il 10-11 maggio si arriva a Genova. Per il prossimo sabato il Lions Club alla Chimera ha organizzato una serata di confronto con il regista retino Riccardo Paoletti. Come si costruisce uno spot pubblicitario? Sarà così il regista Riccardo Paoletti il protagonista della serata organizzata per sabato 18 marzo dal Lions Club Arezzo Mecenate. Un regista che si occupa di pubblicità e cinema. Ci intratterà nella serata con i dietro le quinte di grandi pubblicità, di realizzazioni di grandi spot e campagne pubblicitarie e ci narrerà anche aneddoti dei suoi film realizzati, uno in particolare anche in provincia di Arezzo. Questo evento si inquadra nella nostra annata laionistica in cui abbiamo cercato di coniugare persone aretine nate, cresciute, educate ad Arezzo con la loro esperienza fuori Arezzo in cui appunto o vivono all'estero o vivono in altre parti d'Italia. Durante la serata verranno infine consegnati il premio Mecenate e il premio Mecenate speciale. Il premio Mecenate verrà assegnato all'Associazione Pronto Donna, un tema purtroppo di strettissima attualità, oserei dire, quotidiana in quanto abbiamo ritenuto che sia un tema meritevole della massima attenzione e sensibilizzazione. Mentre il premio Mecenate speciale verrà assegnato al professor Luca Berti, presidente dell'Accademia Storica Retina, quale persona che abbia dato giusto appunto lustro al nostro territorio in ambito culturale e meramente storico. Al Teatro Virginian, una fuori stagione all'insegna della grande comicità sul palco, è infatti salito Nino Formicola. Io ho cominciato la mia carriera da spettatore, io andavo nei cabaret con il registratore, quello che c'era all'epoca della Philips, il primo registratore a cassette portatile, me lo infilavo nella pancia sotto il golf, mettevo il filo del microfono che usciva da qua e stavo quattro ore così a registrare gli spettacoli. Dino Formicola si è raccontato sul palco del Teatro Virginian in un fuori stagione all'insegna della grande comicità. 50 anni di carriera e non sentirli il titolo della serata talk, un appuntamento unico nel suo genere con uno degli artisti che più ha lasciato il segno nella storia del cabaret italiano, dividendosi tra televisione e teatro. A noi piaceva il teatro, tant'è vero che noi abbiamo sempre, continuativamente, fatto il teatro e la televisione era il promo, per noi la televisione è sempre stata il promo per convincere la gente a venirci a vedere dal vivo. Un vero e proprio incontro aperto nel quale Nino Formicola ha ripercorso momenti e retroscena dei 50 anni di carriera a partire dall'incontro con Andrea Brambilla con cui ha dato vita all'affiatata coppia Giugurro e Gaspare. Andrea aveva un talento comico raro, io dico sempre, la gente, anche adesso, prima mi hanno fermato, ci hanno fatto ridere in televisione, ma far ridere in televisione non vuol dire niente. I comici bisogna andargli a vedere dal vivo, dal vivo capisci chi sono quelli veri e quelli farlocchi e Andrea era uno che poteva stare sul palco fermo un quarto d'ora e far ridere la gente senza dire una parola, cioè era proprio un talento, bastava quello, bastava, quindi le pause, i controtempi, e quindi sai, è un'altra storia. Comissà Natuzzurro, il capo ci ha affidato un nuovo ed importantissimo caso, ha capito? Sì, va bene, ha puntato Menea, ma ferma. Stiamo dicendo che bisogna dirigersi al Museo d'Arte Moderna, assolutamente, velocissimamente, ha capito? Ti accompagni insieme. Io compio 70 anni, sono 50 anni di carriera e sono 10 anni che è morto Andrea, quindi, e io non mi sono divertito per niente. In questi 10 anni mi sono divertito pochissimo, perché a 60 anni ricostruirti la carriera da solo, quando sei abituato da 40 a lavorare in un'altra maniera, credetemi, è difficile. Passiamo alla pagina dello sport, vittoria in trasferta per l'Amen, che passa a San Giovanni-Valdarno, ottenendo il terzo successo stagionale contro la Synergy-Valdarno. Non è stata una partita scintillante per la SBA, che però era chiamata a vincere, ed il risultato pieno è arrivato al termine di una gara, comunque condotta a larghi tratti, contro un volenteroso avversario che ha alzato bandiera bianca solamente negli ultimi minuti. Conquistati i due punti, l'Amen fa quindi un passo in avanti in classifica, adesso i Amaranto avranno poco tempo per ricaricare le pile in vista della terza sfida in una settimana, contro lo scontro diretto contro l'Endi Asfalti, a Iana in programma sabato prossimo alle 19 al Palace Portestra. Domenica 26 marzo, invece, il Vasari Arezzo organizza con la collaborazione di AT1 Group un torneo di rugby a favore dell'ospedale pediatrico Meyer. L'iniziativa sarà aperta fino a 16 squadre formate da bambini sotto i 9 anni. Nel nostro sport, la prima regola e principio di ogni giocatore a sostenere, ha dichiarato Alessandro Rossi, il presidente del Vasari Arezzo, ed i piccoli giocatori dell'Under 9 e del Vasari e di numerose altre società toscane giocheranno un torneo a loro dedicato all'insegna del rispetto, del divertimento e riproponendo il principio del sostegno anche fuori dal campo. Questa perra stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci.